Il signor Nino ha portato la sua grande sensibilità, il suo grande gusto. E anche se vogliamo una sorta di twist, perché lui non è mai stato un amante delle cose troppo inamidate, troppo perfette. Infatti lui diceva sempre che la grande eleganza di un uomo era potersi permettere qualche imperfezione. Nino, mine di rien, va sempre passare in quanto era la sua composizione, che era sempre una composizione che non era solo masculine. Il aveva sempre una parte femminile a Nino Cerruti, e l'ignorare era la personale profonda di Nino Cerruti. Tutto si faceva con suggestioni, è quello che chiamano fluido. Essere velocemente nella battuta, cioè nel cogliere lo spirito giusto, nel cogliere l'elemento giusto, e secondo me dare uno spunto, spesso anche moderno, in fattori che non tutti cogliavano. Il aveva molto il movimento di gender fluido, quindi tutti i designi che lavorano a lavorare in una collezione di uomo e uomo, per lui era qualcosa di molto interessante. E il aveva molto il streetwear, il aveva molto il casualwear, perché per lui, io penso che uno dei drapeaux di Nino Cerruti come persona, ma anche come creatore, era la libertà. Nelle sue interviste diceva sempre che non importa come ci vestiamo, ma è come indossiamo l'abito. E quello per lui era lo stile. Prima eravamo solo tessitura che vendeva a sarti e a grossisti i tessuti. E poi, piano piano, ci siamo accorti che era più importante anche trasformare il prodotto in abiti e abbiamo acquistato a Milano un'azienda che faceva quello come lavoro speciale. Io ricordo che Nino aveva sempre molto piacere di incontrare personaggi che magari aveva una idea diversa, ma per acquisire esperienza in quel senso nel ragionare sulle cose è stato molto importante. Comunque, in generale, Nino si è fatto molto da solo. Una caratteristica di mio frate, che guardava sempre le tragiche che aveva fatto per fare la comparazione di ciò che aveva fatto in Italia. Come immaginare le rifiorezioni che aveva? A 20 anni, il diventa un industriello. A 20 anni. Qu'est-ce che sappiamo a 20 anni? Io credo che sia l'un dei inspiratori del prêt-à-porter deluxe. E poi, molto presto, il ha avuto questa idea di abituare le donne come le donne. Il ha capito questa cosa incredibile. C'è che, in futuro, le donne come le donne come le donne. C'è quello che aveva fatto prima. Madame Chanel aveva fatto il smoking. Saint Laurent, ma Saint Laurent, c'era della couture, non c'era dei morsi. C'è un morsi. C'è un morsi. C'è un morsi. Cerruti era una persona che faceva tantissima ricerca. Lui si è sempre occupato di prodotto, viveva l'azienda, viveva la progettazione e soprattutto il finissaggio. Mi dicevano che era presente spesso in finissaggio per toccare i suoi tessuti, per portarli avanti, fare ricerca. Secondo me, a lui si dovevano, vabbè, un tessuto notissimo di Cerruti è il superissimo, che credo che conoscano tutto l'ambiente tessile che ha portato avanti per anni. Però è stato precursore in altri aspetti. Per esempio, lo smart tailoring, come chiamano oggi in inglese, che non ci piace come termine, ma il concetto di decostruito per fare le tessuti per faccia che decostruite, è stato uno delle invenzioni che ha portato avanti Cerruti. E lui il suo prodotto progettato lo viveva anche, perché se guardate come vestiva, vestiva sotto proprio quel profilo lì, tessuti leggeri, senza cravatta, la camicia aperta. Secondo me l'altra innovazione che ha portato sempre nel paroma Nama Tessile sostanzialmente è stata quella di portare la gamma del tessuto confortevole, decostruito, eccetera, nell'alto di gamma. Nel momento della proposta della candidatura di Biella come città creativa UNESCO, addirittura Cerruti ha fatto un tessuto che ho qui, che se volete potete poi consultare, dove c'è il simbolo della creazione della città dell'arte e lui appunto ha voluto fare questo tessuto a ricordo ed è stato presentato insieme agli altri elementi per la richiesta e la candidatura della città creativa Biella. Si passavano ore a guardare questi tessuti e lui commentava ma servirebbe una tonalità un po' più azzurrata piuttosto che una tonalità più verde. comunque era un tipo di gusto che era proprio frutto della grande osservazione del prodotto. una cosa che probabilmente oggi non si fa più oggi anche gli stilisti sono molto veloci invece lui passava ore a guardare i tessuti e soprattutto ore a toccare i tessuti. aveva l'habitude di creare delle belle cose e aveva dei standardi molto, molto elevati. Parfoi, l'educazione e i standardi passavano la moyenne di quello che lui proposte nella filatura e lui diceva questo all'inizio. Quindi, blocava il progetto all'inizio e lui demandava di fare più, di fare davantage. Di sicuro era un amante del suo lavoro e un amante dei tessuti e poi era una persona che amava alzare sempre l'asticella difficilmente si accontentava del primo risultato che usciva. Questo era un po' nella sua natura cioè voler sempre spingersi oltre, fare meglio. Ovviamente l'anificio è conosciutissimo per la sua elevata qualità è conosciuto perché la produzione è tutta made in Italy cioè è fatta a Biella e quindi Nino attraverso il suo anificio cioè è riuscito a portare avanti questa sua idea di altissima qualità tessuti rinnovati questa sua ricerca proprio la caratteristica secondo me dell'anificio Cerutia di Nino è lavorare su tutta la filiera dalla scelta delle lane che l'anificio comprava sicuramente la filatura è una parte importante quella che voi chiamate filatura ma ci sono anche tutte le fasi intermedie che sono la parte di tessitura e soprattutto la parte di finissaggio che facevano sì che l'anificio tirasse fuori prodotti unici e per i quali Nino faceva fortissima ricerca non è solo l'elemento filatura bisogna guardarla su tutta la filiera perché lui sceglieva le materie prime migliori per ottenere dei prodotti particolari e faceva tantissima ricerca in finissaggio il suo finissaggio è uno dei più famosi a Biella proprio perché faceva tantissime prove aveva tantissime idee non dico che vivesse in finissaggio ma il suo caporeparto che conosco bene mi dice che aveva una sedia lì rappresenta il simbolo della grande eccellenza nel mondo dell'imprenditorialità dell'intuizione della visione per il futuro dell'etica aveva due ame aveva una ame molto filosofica e aveva una ame molto... aveva una ame molto... aveva una ame d'entrepreneur quindi magari aveva usato le due magari aveva una magari aveva l'altra secondo l'interlocutore aveva sempre... aveva l'impression quando gli eravamo aveva le domande aveva l'interlocutore aveva l'interlocutore aveva unico aveva unico aveva unico aveva unico aveva unico aveva unico e aveva una Io penso che per menere una barraga come questa e essere un grande uomo d'affaire come è stato, bisogna avere una poigna. Quindi questo aspecto, io lo vedo un po' meno, ovviamente. Ma io penso che il priviligiava sempre la comunicazione, c'est-à-dire l'opportunità. Il era attentivo, il passava il tempo con noi. Ce n'était non solo qualcuno che sortia di suo lavoro, impressionante, e poi ripartia. No, abbiamo passato molto tempo insieme, e questo è abbastanza italiano, una volta di più. È considerato da tutti qui nel Biellese uno stilista, un uomo di stile, un uomo di evoluzione. E questo è un elemento focale, perché proprio la connubia tra il lanificio, il suo modo di essere stilista e il prodotto che faceva, questo lo integra in questo panorama. È l'orgoglio della città, perché era una personalità completa, a 360 gradi. Sapeva fare business, ma sapeva anche creare lo stile. Ma lo stile non lo creava solo nei tessuti, coi colori. Lui era proprio un gentiluomo, lo stile ce l'aveva proprio dentro di sé. Si è costruito da solo, con l'esperienza e la grande passione. Era un appassionato del settore ed era molto curioso di conoscerlo bene. Per cui direi grande merito, perché si è fatto con la volontà di sapere. Perché mio frate ha già detto che quando è bene fare una cosa, si è riuscita e si è riuscita, e le altre cose si è riuscita a fare con le altre. Seria importante per tutti non svolgere questo lavoro come fine a se stesso, ma metterci ogni giorno un po' della passione che lui ha sempre avuto e che io ho sempre visto dimostrare nel suo apprezzamento di qualsiasi tipo di tessuto. Il aveva molto amore, Nino. C'era un italiano che hava rire, che hava la vita, che hava la vita, che hava le buccia, che hava le buccia, che hava le buccia, che hava la vita e che hava il pari. Io penso che ha trovato il suo appartamento di pari. Io penso che è stato curioso di ogni persona. Io penso che mi ha più risposto che io gli ho messo a lui. Si c'è interessato di sapere come ho visto le cose, come ho visto le cose, come ho visto l'abbiamo per andare a un dîner, mi ha piaciuto i grandi sacchi o i piccoli sacchi, mi ha piaciuto le piacere, le piacere a un talon. Il mi ha interrogato, mi ha interrogato. E io ho trovato molto intelligente. Però gli piaceva tanto guardare la moda. Lui non aveva un computer in ufficio, però riusciva sempre a avere le ultime informazioni, le ultime notizie, a leggere i giornali, a leggere le riviste. Secondo me la frase che lo rappresenta di più, secondo me più che gli anneddoti, perché rappresenta la sua essenza, la leggo perché è veramente impossibile sostanzialmente ripeterla con la stessa enfasi, con la stessa puntualità. Un tessuto è una seconda pelle. Il mio rapporto con i tessuti è estremamente stretto, connesso. Un tessuto è un po' come un quadro. Da lontano sembra tinta unita, ma da vicino si scoprono tutti i giochi, gli intrecci e i colori che lo compongono. Secondo me questo è un vero aneddoto, un vera rappresentazione di come erano i macerruti. Inizialmente del signorino io ho avuto timore perché ero giovane e, insomma, capite, è una personalità, quindi avere a che fare direttamente con lui non era una cosa semplice. Però lui è sempre stato una persona che non faceva cadere le cose dall'alto, era molto pratico e era alla mano, anche se il lavoro era da fare. Era un articolo, un'intervista che avevano fatto a sette studenti della Parsons School of Design e leggendolo il signorino ha notato una cosa, ha detto questi che sono i migliori di questa scuola, non c'è nessuno di questi che saranno gli stilisti del futuro che sottolinei l'importanza del tessuto. Infatti lui ha scritto nessuno e enfatizza il tessuto e da questo era venuta quell'idea di cui forse ho accennato in questi giorni, la sua idea di creare una scuola all'interno dell'anificio dove ospitare i giovani stilisti per far capire agli stilisti l'importanza del tessuto, l'importanza della materia. La maggior parte delle volte, io ho cercato dei articoli che mi pensavo potesse interessare, delle news lettere digitali, per lui domandare ciò che pensavo. Perché per me, io avevo sempre sovrappato di sentire ciò che pensavo. E poi ho prenduto delle notte. E poi avevamo questa abitudine tra noi, io metto sempre il portabile sul tavolo, e io l'enregistrò, e lui lo sapeva, il voce il portabile, e quindi lui diceva «Oui, sì, voi potete farlo, c'è bene». Nino era molto vicino ai giovani, alla formazione e all'artigianato. Insieme abbiamo pensato a come fare formazione, a come tramandare, e appunto il signor Cerruti desiderava molto proprio tramandare la sartoria, la manualità, l'artigianato. Io penso che lui avesse questo bisogno di trasmettere i valori della vita agli altri, così come io ho bisogno appunto di dare vita, diciamo non soltanto immaginifica, ma reale all'attività che si svolge nel mondo. Questa è vita, dare vita agli altri, lavorare con gli altri. Lui aveva un'azienda, diciamo, di produzione, e qui abbiamo un'azienda di creazione, e le due aziende si sentono bene insieme. Di maestri nella vita ne troviamo pochissimi, a qualsiasi età. e per me lui era non un maestro di stile, ma era una luce che mi portavo dietro e che ancora oggi mi porto dietro.